Un omaggio in salsa salmastrosa al grande commediografo Edoardo De Filippo. La commedia Filomena Martoriata, che andrà in scena a Villa Bertelli domenica 8 luglio a Forte dei Marmi, è una rivisitazione in chiave ironica del capolavoro di Edoardo, senza tuttavia modificarne il contenuto. Con grande piacere che abbiamo accettato l'invito che ci ha fatto il Presidente della Fondazione Mindo Ducci di presentare dopo anni questa commedia, una commedia che noi ci teniamo tanto. Siamo liedi di poter rientrare a Villa Bertelli con questa nostra commedia, dove io sarò un altro gli anni, non ci direbbe, te l'ora non ridere perché l'ora sarebbe Sofia Loren. Domenica 8 luglio a Villa Bertelli. Se avete voglia di fare delle sane risate, venite a vederci e rimarrete senz'altro entusiasti. Regia Laura Santini e chi se no.